Allora ragazzi, benvenuti a questa nuova reaction sul canale di Hellfire, sponsorizzata dal Joyce Garage. Tutti i mercoledì sera alle 21 su Twitch, Joyce Garage. Raga, facciamo bordello. Anche se c'è la Champions. Siamo qui perché con me ci sono Gioi Tassello, Iccio e un applauso a Davide Albano. E mi dite, ma che cazzo è Davide Albano? Sono lui a cui piacevano i Coldplay. Esatto, a lui piacevano i Coldplay. Ok, ragazzi, oggi facciamo la reaction al chitarrista più veloce della storia. Dici, ma chi è? Chi sarà male? Infatti la domanda è, chi cazzo è? Ragazzi, vi do degli indizi. È italiano? Non è Matteo Mancuso, ragazzi. Io ne ho un altro che però è passato a miglior vita, ma non è solo il più veloce del mondo, era il migliore in assoluto. E chi era? Richard Benson. Attenzione, perché lui, lui, cioè Davide Lossurdo, potrebbe essere l'erede di Richard Benson. Chiedo gentilmente a Davide di fare il suo fantastico lavoro e leggerci una parte della biografia di Davide Lossurdo. Continuo a far parlare di sé il giovane Davide Lossurdo, di recente nominato il chitarrista più veloce della storia dalla rivista Rolling Stone, grazie a sua capacità di suonare 129 note al secondo. 129 note al secondo, come è scritto qua. Ragazzi, è un po' serio. Al secondo. Facciamo capire a tutti quanti che cosa vuol dire. Vuol dire che in un minuto ci sono 60 battiti, più o meno così. Forse un pelo più lenta. Eccola qua. Vuol dire che ad ogni colpo che sentite ci sono 129 note. Bene, la rivista Rolling Stones ha detto che il chitarrista più veloce della storia lui è un misuratore tecnico, ragazzi. Questo qua è ingegnere, non è un pirla. Ok? Cioè, 129 note al secondo, Luicio. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Allora, chiediamolo alla nostra intelligenza artificiale. Suonare 129 note in un secondo estremamente impegnativo è difficile da realizzare. La precisione richiesta a una velocità così elevata rende complesso mantenere la chiarezza delle note e l'articolazione. Molti fattori, tra cui la tecnica strumentale, lo strumento utilizzato e la complessità delle note influenzano la praticità di suonare a questa velocità. Anche alcuni chitarristi virtuosi potrebbero trovare difficile raggiungere una tale velocità con precisione e musicalità. La cosa che mi perplime è di suonare, lui lo dà per certo, non fino oppure anche 129. No. 129 note al secondo. Una delle chitarre del giovane musicista italiano, nata a Roma nel 99, è stata data permanentemente ad un museo americano dove sono conservati strumenti appartenuti a Mozart, Beethoven e Schopenhauer. La missione di questo museo è appunto la conservazione e la celebrazione di strumenti musicali storici appartenuti ai grandi maestri della storia della musica attraverso mostri a tema ed altri eventi dedicati. Ok. Allora, cosa c'è di strano questo articolo? è che se io vado a prendere altri articoli, mi portano esattamente sempre le stesse cose. Sono andato anche a cercarmi se esiste veramente un Guitar World Record della chitarra più veloce. C'è qualcosa, ma non è qualcosa di veramente ufficiale. Sono video di ragazzi che nel 2011, qualcuno nel 2010, 2020 ce n'è uno, ma nessuno di questi riporta il nome o un video di Davide lo Surdo. Siamo di fronte ad uno scammone? Ma raga, ha suonato anche con Steve Vai. Io conosco un altro che ha suonato con Steve Vai. E chi è? Matteo Mancuso. Matteo Mancuso! Scuso, anche io ho suonato con Steve Vai, però non è che minchia, ma sono io, cioè c'è anche il video, sì sì, c'è il video sul mio canale YouTube, Gioita Stello. Ma la cosa che mi ha più colpito è che ho trovato una YouTuber Morbid One Biografia e Musica, non è malaccio, eh? No, scusa, eh, biografia di una leggenda vivente. È quello il fatto, cioè non vi sembra per caso una pubblicità? Andiamo a sentire cosa dice. Fino, italianissimo e con una carriera sfolgorante tutta in ascesa. Davide lo Surdo, pur essendo nato solo nel 1999, vanta già una carriera da far girare la testa, con dei risultati impressionanti, ma non è questo che lo caratterizza. Infatti, senza tanti giri di parole, Davide è il chitarrista letteralmente più veloce della storia della musica ed è capace di suonare ben 129 note al secondo. Cioè, nessuno si pone il dubbio che 129 note al secondo sono qualcosa che non ha proprio logica di esistere. niente po' po' di meno che dalla rivista Rolling Stone. Io conosco un'altra persona che ha avuto un bellissimo articolo su Rolling Stone dove logiava il disco e il singolo che è uscito. Ah, ma già è vero? Lui! Ma già è vero! Ma che cazzo dice? Raga, avere un articolo su Rolling Stone non è così difficile, diciamo che se conosci... Ma come, l'ho capito? Ma vaffa culo, scusa! La chitarra di Davide lo Surdo, modello DLS1, è stata conferita al museo americano Seagal Music Museum negli Stati Uniti dove oltre... Evidentemente gli ha fatto una donazione! Non è che... Cioè, se vuoi fare una donazione ad un museo... Però ho capito, tra i musicisti, tra i nerd, perché comunque stiamo parlando di nerd, che in quello siamo, è impossibile che uno conosca un evento, un personaggio così. È vero! Infatti, se tu vai a cercare la foto, troverai sempre questa foto con un angolo sfocato allo sfondo, un tavolino veramente precario, cioè roba che potrebbe cadere la chitarra da un secondo all'altro e una foto che è una normalissima foto su YouTube stampata in un riquadro probabilmente preso da coco a un euro e venti. Capite? E ci sono delle cose che effettivamente... Va bene, non le prendiamo per vera, perché così ci dice. ...alla sua chitarra, pensate, sono conservati strumenti appartenuti a Mozart, Beethoven e Chopin. Il famoso giornale equadoriano... Ma che strano! Le stesse cose che sono state scritte qua. Mercurio ha descritto Davide Lossurdo come una leggenda vivente del mondo della musica. Ma come ha fatto Davide a raggiungere questo record assoluto? Come ha fatto? Una bambina, una sua coetanea vicina di casa. Un giorno Davide vide Aurora suonare la chitarra... E tutta la storia di lui da bambino! ...e lezioni di eseguire dei cambi di accordi velocemente. Ai... Io nell'ambito ecclesiastico, che il ragazzo è del suo primo... E che dice? C'erano i freddi? ...suonava durante la messa e il prete lo portava anche a suonare davanti a... Però secondo me andava troppo veloce! A te il prete non ti ha mai portato a questo parte! Abbiamo capito che è 129 note al secondo, è conosciuto in tutto il mondo, il museo della musica, le gente... Il museo, la chitarra del museo della musica... Allora, ragazzi, noi in questo momento stiamo parlando senza aver ascoltato, ed è sbagliato! Esatto! Bene, adesso io metterò il video, sono ben 43 secondi, perché ovviamente va velocissimo... E quindi... Sono due album! Allora, scusate, 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 129 note al secondo, dura 44, 43 secondi, 44... 129 per 44, grazie! Sono 52 mila note, può essere più o meno! Non lo so, non me ne frega un cazzo! Pronti? Guardate già che l'impostazione, questo spacca! questo chaotic è da, e le restate schimili del video, senza utilizzare noi dall'anno cmd che conquetti... Perché? E quindi tutti, Soldier. Perché? Perché? È sempre più o meno! Sì, deve più o meno! Ora avete sentito 52.000 note in questi 44 secondi? Io non credo! Veloce è la veloce! Veloce è la veloce! Veloce è la veloce, però ragazzi... Ma pensiamo a quella cosa che metti la mano adesso, o tra sotto? Niente! Il nome è quella tecnica! No, diciamo che quello che lui sta facendo in questo video ricorda moltissimo le cose che faceva Michelangelo Batio. Mi dici quante note stai effettivamente sentendo? No, non sono 129 al secondo! No, no! Quante note... Cioè è talmente sporco nel fare quelle cose veloci che non si capisce che cosa sta suonando! Cioè lui fa... E non si capisce un cazzo! Cioè, se devo essere sincero, non c'è la pulizia, ma è questa tecnica che usa col braccio è divertentissima da vedere, ma non è... Non diciamo a cosa serve! Raga! Ma come cazzo fai?! Cosa è bagliore? Cioè, va benissimo! Ci sono miliardi di tecniche diverse! Non esiste una tecnica per la mano destra! Per carità! Ma va contro le leggi della fisica e di quello che stai sentendo! Perché è talmente distante il braccio che non... Come fai ad essere preciso? Come fai? Cioè, non puoi! Raga! Bravissimo! Se riesci a farlo è bello! Bravo! Complimenti! Ma è poco musicale anche! Sì! Non è che suona male! Ma da qui a dire il chitarista più veloce della storia! Leggenda! Leggenda no! No! Anche meno! Va bene tutto! Leggenda! Tutto quello che volete, ma... Fly down! Comunque! Fatevi la vostra idea! Andatevi a vedere chi è Davide Lo Surdo! E rimarrete così! Non è in pausa, eh! Siamo per lì per davvero! Siamo per lì! Per davvero! Parliamo! Ha 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 ha!